ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi ragazzi vi spiegherò il perché le batterie nelle bici monopattini eccetera 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 non devono mai e poi mai andare connessi in serie benissimo a grande richiesta vi spiego il perché non dovete connettere mai e ripeto mai batterie nei vostri monopattini o bici elettrico anche ragazzi scooter elettro utensili eccetera eccetera in serie e allora facciamo l'esempio con questa e intanto partiamo dall'inizio connessione serie connessione parallelo questa è una batteria mettiamo il caso da 12 volt perfetto ne facciamo un'altra da 12 volt connettore 1 connettore 2 perfetto qua ne facciamo un'altra connettore 1 connettore 2 sempre da 12 volt sempre da 12 volt dividiamo e facciamo serie parallelo lo ok e allora nella connessione in serie come si collegano le batterie e cosa succede quando facciamo una connessione serie allora innanzitutto facciamo che questo è il positivo questo è il positivo questo è il positivo e questo è il positivo di conseguenza questi sono i negativi ovviamente come si collegano in serie ragazzi la connessione in serie è questa qui prende il pennarello aspetta cancello fino a qui così io lo spazio libero ragazzi la connessione in serie schematicamente è questa 1 2 e 3 più meno più meno la connessione in parallelo come così 1 e 2 più meno e qua abbiamo più e qua abbiamo più e qua abbiamo meno e qua abbiamo meno perciò a questo punto come si cabla questo in serie dobbiamo prendere il negativo generale e lo usciamo ed è negativo il positivo di questo dove va in serie alla seconda batteria perciò nel negativo della seconda positivo della prima usciamo dal positivo della seconda e abbiamo positivo cosa succede nella connessione serie questo vale ragazzi con batterie e celle di qualsiasi voltaggio attenzione in serie i voltaggi si sommano cioè queste v v abbiamo per esempio v1 e v2 12 volt 12 volt e cosa succede 12 più 12 uguale 24 volt perciò con due batterie da 12 volt connesse in serie abbiamo creato 24 volt abbiamo creato 24 volt con 2 batterie parallele da 12 volt come intanzitutto come si cabblano ragazzi semplice 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 così e così qui abbiamo positivo e qui abbiamo negativo negativo qui invece cosa succede? niente ragazzi succede che la tensione resta sempre quella che è 12 volt però cosa cambia? cambia ragazzi la capacità totale del pacco batterie cioè se questo pacco batterie era un 12 volt 10 ampere ora e questo anche 10 ampere ora connesso in serie cresce volt il voltaggio finale però la capacità resta sempre quella perciò 10 e 10 resta 10 10 ampere ora per 12 volt se invece abbiamo il parallelo connessione in parallelo 12 e 12 restano sempre 12 ma mettiamo il caso sempre fossero stati 10 ampere ora e 10 ampere ora cosa succede? si sommano si sommano e viene fuori un 20 ampere ora perfetto così cosa vuol dire? se il tuo monopattino ti faccio l'esempio anche se a 12 volt non ci sono monopattini sono 36 48 60 volt eccetera eccetera fosse stato a 12 volt e avresti avuto una batteria da 10 ampere ora mettendo in un'altra uguale in parallelo ragazzi avevate raddoppiato la capacità cioè la percorrenza così da poter fare più strada ora torniamo al principio perché non si devono mai cablare le batterie nel monopattino in serie come ho detto poc'anzi nel monopattino per esempio il mio monto una 48 volt 13 virgola 5 ampere ora l'elettronica che pilota il motore le luci led tutta la centralina e tutto ciò che c'è installato funziona con una tensione di 48 volt se vado a connettere in serie due batterie da 48 48 più 48 uguale perché ovviamente si sommano vale lo stesso principio di prima si sommano ragazzi cosa abbiamo abbiamo la bellezza di 88 16 4 4 8 96 volt ragazzi ma stiamo scherzando cioè come io voglio far funzionare a 96 volt il mio monopattino cioè tu sai cosa andrebbe a succedere che dal momento in cui tu hai avviato cioè hai connesso le batterie in serie con questa connessione hai dato alimentazione a tutto il circuito tempo qualche microsecondo tutto esplode tutto brucia tutto si brucia perché l'elettronica che tu hai montato nel monopattino bici o ciò che sia non può fare un salto da 48 a 96 è troppo alta come tensione mettendolo in serie abbiamo detto che la capacità resta sempre quella perciò non miglioreresti neanche la percorrenza per migliorare la percorrenza e far funzionare tutto nello standard 48 volt devi andare a cablare tutto in parallelo le batterie solo ed esclusivamente ragazzi in parallelo consiglio sempre di utilizzare i fusibili ok i fusibili sono importanti ogni batteria in uscita e anche in ingresso per la ricarica devono avere i suoi fusibilini mi raccomando fate attenzione ragazzi per questo video è tutto iscriviti al canale lasciami un like mi raccomando se vuoi più informazioni sulla tecnologia litio sulle celle sulla customizzazione dei pacchi batterie iscriviti al mio corso tecnico battery maker sotto in descrizione trovi i link al corso c'è anche battery maker power wall maker in più su amazon trovi tutti i miei fascicoli tecnici cartacei sempre sotto in descrizione in più se vuoi iscriviti come gold member abbonati al canale youtube e dimenticavo iscriviti al canale telegram delle offerte fox tech bestie shopping ciao ragazzi al prossimo video ciao a tutti i miei ciao a tutti i miei